E' un'altra cosa. Te li devi seguire. Perché se se la persona va a dirà... Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! Vai, vai! Vai, vai! Mori, mori! Proviamo la sempre, proviamo, proviamo la sempre! Vai! Vai, vai, vai! Brava! Bravo! Vai, vai, vai! È buono, Gianni! Buone! Welli! Dai! Now! are you? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.